Ed ora trasmettiamo i Tg regionali. 500 kg di cibo avariato, sequestrati dalla Polstrada sulla tangenziale di Torino. Denunciato l'autista era diretto a Pianezza per rifornire un cenone di San Silvestro. Al microfono del nostro Tg, gli automobilisti alle prese corrono in caro delle tariffe scattate a mezzanotte. Siamo andati sull'auto Precius e sulla Torino-Piacenza. Le 19.37.35 secondi. Buonasera e buon anno dal telegiornale del Piemonte. Lo avete sentito dai titoli? Siamo arrivati alla fine di questa edizione del telegiornale del Piemonte. Vi rinnovo gli auguri di buon anno. Prima di lasciarvi all'appuntamento col canone Rai e alle previsioni del tempo, vi ricordo che questa sera la nostra terza edizione non andrà in onda. Le nostre trasmissioni riprenderanno regolarmente domattina qui da Rai Torino con Buongiorno Regione e il Gazzettino del Piemonte. Buonasera a tutti, grazie per averci seguiti. Ci vedremo ancora. Grazie per aver guardato il video.